Ben trovati cari seguaci, questo Ubudens Party, come al solito purtroppo per voi sono Giuseppe e oggi parliamo di un album di cui si è chiacchierato abbastanza all'inizio di quest'anno ed è secondo me uno di quei classici lavori che di solito si prendono dei bellissimi voti da parte della critica ma poi scompaiono nel momento in cui bisogna fare le classifiche di fine anno perché sono lavori che hanno una preziosità di impatto molto importante ma che tendono nel tempo a perderla, a perdere un po' quella patina di novità, di interesse che si crea attorno questo perché essenzialmente molti album che la critica tende ad apprezzare molto velocemente sono album spesso volentieri costruiti per piacere ai critici non in un senso cattivo del termine, cioè che con dei sotterfugi qualcuno cerca di convincerti e quell'album è particolarmente buono, utilizza una serie di elementi musicali che tendenzialmente al critico medio piacciono ma si fa, ovviamente gli uffici stampa fanno una ricerca, programmate di che tipo di musica ascolta un certo critico o un certo giornale che tipo linee di editoriale hanno e cercano ovviamente di proporgli gli album che meglio rappresentano quelle linee editoriali e quel tipo di gusto in modo tale da avere delle recensioni positive e questo è più che normale, più che lecito fra le altre cose però, dato la velocità dei mezzi con cui oggi ci siamo abituati quella brutta velocità che ha preso il giornalismo negli ultimi anni di voler arrivare sempre prima le notizie spesso e volentieri molti di questi album vengono ascoltati con un certo livello di superficialità e non è, ripeto, colpa realtà del critico ma del fatto che l'articolo deve uscire, il disco ti è arrivato una settimana prima ne hai altri 30 ad ascoltare non è così semplice riuscire a avere il tempo della riflessione e di poter anche spesso e volentieri prendersi il lusso di raccontare un album con dovizia di particolari prendendosi il tempo che a volte è necessario questo è un lusso che purtroppo molti giornalisti che fanno questo di professione non hanno purtroppo e quindi eccoci a parlare di Tableau Tableau è il quarto album delle Orielles un gruppo piuttosto seguito ormai da diverso tempo già quando erano ragazzine a Liverpool loro sono proprio della città di Liverpool, se non mi sbaglio e facevano questo album nel 2018 piuttosto divertente si chiamava Silver Dollar Moment si chiama ancora Silver Dollar Moment ed era un lavoro uscito già per Heavenly che è una delle etichette più in vista negli ultimi anni in Inghilterra se non mi sbaglio nel 2015 vinse il Mercury Prize comunque un'etichetta molto in vista in Inghilterra sede ovviamente a Londra è un album estremamente pompato era un garage pop come dire molto orecchiabile molto psichedelico con una produzione importantissima ovvero quella di Marta Saloni che è una delle produttrici più influenti forse degli ultimi 5, 6, 7 anni di musica rock tra l'altro abbiamo già parlato di Marta Saloni l'anno scorso sul canale per alcuni album perché veramente insomma il suo tocco di remida è un po' dietro diversi dei successi più acclamati dalla critica internazionale degli ultimi anni Marta Saloni che seguirà questa band anche nel secondo album che era Disco Volador sempre per Heavenly del 2019 che era già un lavoro piuttosto diverso che aveva tirato ancora una volta l'attenzione alla critica per questa strizzatina d'occhio a lo space rock a delle manie Disco Revival che in quel periodo andavano molto forti perché ancora oggi hanno una coda piuttosto ben seguita è un gruppo che poi a un certo punto diciamo un po' scomparso dai radar della critica specializzata e chi ora con questo album torna prepotentemente proprio anche grazie a una campagna stampa piuttosto importante fatta dall'ufficio di Heavenly un lavoro che si staglia in confronti ai precedenti per una ricercatezza musicale molto più complessa per una stratificazione e un'ibridazione dei generi molto più raffinata e per una produzione che però con diciamo così il fatto che Marta Salonghi non è più dietro il processo produttivo piuttosto algida e questo sicuramente da una parte rende la band più cerebrale dall'altra magari per un orecchio più interessato e raffinato può renderli sicuramente molto più interessanti di un classica band garage pop psichedelica che comunque andava piuttosto bene nel 2018 c'era un genere che ancora ancora tirava e queste piccole band erano un pochino ovunque invece questo è un album più complesso 16 tracce che superano l'ora con addirittura un'improvvisazione jazz in nove minuti messa nel mezzo poi in realtà non è un'improvvisazione jazz nel senso è un'improvvisazione con il metodo della musica jazz ma anche ispirata a Brian Eno e altre diverse cose loro ci hanno un po' ricamato sopra su queste cosine quali come vedremo infatti è anche cascato anch'io perché tanta è la retorica di certe cose dei comunicati stampa che poi ti entrano veramente in testa comunque sia è un lavoro sicuramente molto più complesso dei precedenti ciò che però lascia almeno a me piuttosto perplesso dopo diversi diversi ascolti è proprio l'approccio dietro questo tableau nel senso che l'idea dietro il progetto è chiaramente quella della decostruzione si vuole un po' decostruire si vuole un po' prendere in giro i generi del momento questa è una cosa che però almeno le Ori Ellis avevano già fatto ampiamente in loro album precedenti anche perché comunque sia anche un album se volete immediato semplice come era l'esordio quindi il Silver Dollar Moment è un lavoro che andava in certo senso in contrasto con quel tipo di psichedelia un po' facilona che c'era soprattutto in coda alla scena Burger Records californiana degli anni insomma di fine anni 10 ed era un album che si spostava in maniera intelligente verso l'indie pop in stile clean album fondamentale del Sacher Mammy in tutto sicuramente aveva comunque dalla sua parte un'importante produzione mi ripeto quella della Saloni che dava una ricchezza una profondità al sound che ovviamente le Ori Ellis di per sé non avevano così anche Disco Volador è un album comunque già anche lì di principio decostruttivo per quanto divertente c'è una decostruzione ironica anche a volte autoironica c'è un flirt con l'afrobeat ci sono ritmiche molto particolari questa disco music molto gioviale prendevano in giro in maniera molto diretta fra l'altro la scena californiana c'è un pezzo che si chiama Bobby's Second World che è chiaramente un riferimento a quella scena che poi viene mescolata ai Commodores viene mescolata a Yo-Yo Players quindi alla disco music quella più anche se volete tamarra ma che con dei grossi importanti riferimenti musicali dietro è un aspetto timbrico che veramente era interessante etereogeneo mai ripetitivo mai cerebrale questo è un po' il grande secondo me limite di questo tableau ovvero il tentativo di muoversi verso nuove forme di ibridazione questo è solo positivo ma approcciandolo in un modo veramente troppo riflessivo eccessivamente riflessivo il problema di questo album è proprio la sovrastruttura c'è una sovrastruttura di pensiero che precede tutto il lavoro di scrittura che rende francamente questo lavoro molto pesante molto pesante perde veramente l'immediatezza e la chiarezza dei primi lavori per quanto ci siano delle ibridazioni molto valide c'è per esempio television che è un pezzo che dimostra già una ottima qualità molto migliorata diciamo così nella ricerca del riff meno banale la voce della cantante che è Esme Hand Halford e fra l'altro la voce in questo album riesce a trovare una cristallinità particolare ricorda molto quella più dolce melodica e opaca del dream pop e funziona molto bene in questo contesto più algido ci sono diversi diversi anche riferimenti alla scena contemporanea penso a Darkened Corners che è un pezzo che sotto molti punti di vista riprende alcune sonorità dei Black Country New Road però questo veramente non basta per creare un lavoro profondo di riflessione su questi generi come volevano fare evidentemente questo perché dietro questo progetto vi dicevo c'è veramente troppa ricercatezza come dire dei presupposti che dovevano partire dalla scrittura addirittura hanno praticato una forma di improvvisazione bendati nel senso che ognuno dei componenti della band si bendava prendeva uno strumento a caso che non doveva essere il suo e suonavano dei pezzi cercando di trovare delle soluzioni oppure hanno utilizzato il gioco di carte quello di Brian Nino e Peter Schmidt che si chiama Oblique Strategies che poi in realtà non è un gioco di carte che aiuta a creare ecco strategie oblique ma più che altro è un gioco surreale non c'è proprio una vera propria strategia creativa scusate per la tosse mi sto per morire comunque sia tentano tutte queste forme di combinazioni di improvvisazione di giochi di strategie però niente di tutto questo ecco aiuta in realtà a rendere più interessanti le composizioni anzi c'è questa idea di rifarsi molto al sound quello più pop dei Sonic Youth ma questa cosa viene fatta veramente con troppo zelo cioè c'è un tentativo di avvicinarsi a tutte queste ibridazioni troppo tecnico troppo cervellotico pensato ragionato ed è veramente una parabola improbabile quella di questa band cioè non ti aspetti che riesca a partire da dei processi di rielaborazione così intuitivi così immediati per carità non è che i primi due album sono dei capolavori sono album interessanti giusto per i completisti delle scene degli anni cioè di quelle che vanno diciamo dagli anni 10 adesso agli anni 20 quindi niente di particolare niente di così trascendentale questo mi sembra abbastanza ovvio ed evidente però Tableau è un album veramente con un grande potenziale e mentre lo ascolti lo percepisci questa idea di riprendere i Sonic Youth più pop di mescolarli ibridarli ad altre cose funziona ma alla fine quello che viene fuori in maniera netta è un approccio molto la talking heads dove il ragionamento la sovrastruttura il pensiero prima della musica diventa più importante della musica stessa e questa risulta spesso e volentieri in un lavoro che vorrebbe essere ironico satirico complesso e stratificato ma poi alla fine presenta delle canzoni veramente molto semplici e anche a livello improvvisativo di improvvisazione c'è pochissimo c'è il pezzo che si chiama improvvisazione 001 mi sembra quello sia il titolo è un pezzo teoricamente di improvvisazione ma veramente tutto talmente ragionato geometrico pensato già filtrato da tutta una serie di processi di ragionamento di strategie oblique che alla fine non lo sembra cioè sembra un pezzo scritto a tavolino come normale che sia con tutte le prove necessarie per farlo non c'è nessun tipo di diciamo così di immediatezza nella proposta è una proposta che nel suo non è che il problema sia ovviamente il ragionamento o trovare un'idea di costruzione musicale che sia più intellettuale che invece necessariamente di pancia diciamo così di immediatezza di attitudine come si diceva un tempo nella critica rock che poi in realtà sarebbe stata una produzione giusta l'atteggiamento però non si è detto attitudine perché attitude sono uguale comunque sia non è quello il problema il problema è che attraverso questo processo di filtraggio quello che rimane sono comunque canzoni veramente indie pop semplicissime solo molto algide molto come dire raffinate negli arrangiamenti ma non aggiungono assolutamente niente a quanto le RLS avevano da dire prima se non proporre quella che è una pseudo sperimentazione perché poi di sperimentazione qui ce n'è poca alla fine se non nelle premesse e questo è veramente un peccato ed è un peccato perché l'album secondo me qualcosa da dire ce l'avrebbe anche avuto ma non ci riesce mi stavo dimenticando di mettere il voto alla finata bleu che sarebbe comunque un 5 e mezzo ovvero un album che più o meno si incastra tra il 6 che per me significa diciamo così un lavoro che vi consiglio se volete avere una visione completa di un processo creativo di un periodo storico quindi di un anno insomma di un momento o di un genere o di un filone se volete di stile ecco per me un 6 più o meno è quello è per i completisti per chi ha bisogno insomma di avere una visione veramente completa di quello che sta accadendo il 5 vuol dire che essenzialmente questo è un album che consiglio a chi sicuramente seguiva già questa band perché comunque ci sono delle evoluzioni interessanti ma che sconsiglio a chi invece cerca qualcosa di veramente diverso all'interno della scena indie pop garagista di tra virgolette sperimentazione di ricerca è un lavoro che purtroppo si incaglia nelle sue premesse e non riesce veramente a togliersi di dosso tutta quell'impalcatura intellettuale che volevano avere nell'approccio che poi purtroppo non si esprime vuoi magari la mancanza di una produzione intelligente come quella di Marta Saloni può darsi che non è riuscita quindi senza di lei non sono riuscita a dare il giusto valore a tutta una serie di elementi musicali in particolare penso ai dialoghi con la chitarra che sono veramente smorti in confronto ai precedenti album ma sebbene manchi una produzione importante sebbene tutto quello che si può dire insomma anche di premiare un tentativo di riflessione e di sperimentazione purtroppo quello che rimane sono delle canzoni estremamente 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 semplici e chiuse un po' in se stesse in uno stile che tende molto a ripetersi e che spesso sembrano variazioni dalla stessa canzone all'infinito grazie come al solito perché ho avuto la pazienza di rimanere fin qui noi ci vediamo probabilmente forse direttamente questa domenica non penso ci sarà un video di mezzo ma vediamo questa domenica dove ci sarà la tier list quindi domenica 2 aprile bisognava farla a marzo ma non ce l'ho fatta domenica 2 aprile ci sarà la tier list del 2022 sono più o meno 103 album tra i migliori e i peggiori secondo me dell'anno ovviamente non ho messo tutto quello che ho ascoltato sono più o meno tra i 1100 1300 album ma non avrebbe avuto senso ho messo solamente gli album sui quali ho fatto una riflessione critica sui quali mi sono indagato ricercato li ho riascoltati ho fatto un lavoro di ricerca vera e proprio ecco per tutti gli altri no quindi era inutile mettervi una stupidissima tier list di tutti gli album che ho ascoltato sarebbe solamente pretenzioso e molto anche banale da parte mia era più interessante fare un lavoro di riflessione e di ricerca infatti molti di questi album ho dovuto me li sono ovviamente riascoltati fino a ieri in modo tale di avere una visione più fresca possibile e di proporvi una tier list interessante e vi prometto che sarà interessante perché ci sono molte sorprese soprattutto nelle posizioni in alto e ci sono anche diverse sorprese insomma alla fine alla conclusione nella palluda nella palluda delle ultimi posti però secondo me è una tier list più che altro stimolante quindi per questo mi sono divertito a farla e noi ci vedremo credo domenica per questa cosa lasciatemi nei commenti oppure comunque scriverò in community e anche sul gruppo telegram e hub dance party farò probabilmente dei sondaggi per capire qual è l'orario migliore perché con il fatto che sono 103 album anche se ci metto poco tempo per ogni album sicuramente faremo molto più di una penso molto più di due ore forse tre quattro può darsi purtroppo ma sarà divertente sarà divertentissimo per cui credo che comunque ne varrà la pena però devo fare un sondaggio per l'orario quindi vi chiederò un pochino di darmi anche voi delle indicazioni su qual'orario sarebbe meglio secondo voi per questa tier list tanto poi rimane anche sul canale potete vederla anche il prossimo anno non vi preoccupate grazie mille di nuovo per chi è arrivato fin qui noi ci vediamo a un prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille